Questo è un grande momento di emergenza sanitaria per tutta l'Italia, per la nostra regione e anche per la nostra provincia a causa della diffusione del coronavirus. Cosa possiamo fare per contribuire, per essere presenti, per farci sentire più vicini a tutti gli operatori sanitari che in questo momento con grande dedizione e grande senso del dovere si stanno prodigando per affrontare questa grande emergenza. Lo possiamo fare anche da casa contribuendo con una piccola donazione con un bonifico intestato a pro asla a o al uniti contro covid-19 oppure attraverso una donazione fatta con paypal potete informarvi sul sito della fondazione solidale. Cerchiamo di fermarlo tutti insieme.